Dopo, andremo ancora più d'accordo. E di dirvi rocchetta, bevalli della salute? Della rossa, la pesca! Le inchieste del commissario Maigret di Georges Simenon. Crede che quell'uomo sia stato ucciso qui? Sì, è possibile. C'era qui anche l'altro, venerdì. Basta così, non ho niente da dire. Nessuno parla, nessuno si conosce. Chi è stato? Chi? Finalmente qualcosa comincia a muoversi. Su rete 4, in prima visione assoluta. Maigret e il corpo senza testa. Sabato, alle 21 e 10. Puoi avere risultati brillanti in acqua fredda, con dash impeccabili a freddo. E risparmiare fino al 33% di energia. Insieme, ne risparmieremo così tanta da illuminare le più belle piazze d'Italia. Pulito e impeccabile per te, più energia per tutti. Dash, più luce alla tua vita. Quello mi sfoglio con gli occhi e tu stai lì imbalsamato. Bonjour, le plan? Oh, ma che stai a fare? E dimmi almeno grazie Balengo, ti sto ricaricando. E il videofonino? Tutti via il tuo vecchio telefonino e ti pigli un videofonino 3 con 100 euro di sconto. A luglio passa a 3 e prendi un videofonino con ricaricabile Super 5 a partire da 49 euro. Meglio cambiare, ne? S3 Te San Benedetto, un gran talento naturale. Il dolore ti irrigidisce. Contro i dolori cervicali, prova a Volta Advance. L'assuazione analgesica e antinfiammatoria agisce all'origine del dolore. Per tornare liberi di muoversi. Gioia di muoversi. Volta Advance. È un medicinale che può avere effetti indesiderati e anche gravi. Ah, il bello della settimana. Attualità. Celebrities. Moda. Bellezza. La settimana senza A non sarebbe la stessa. Quest'estate in edicola ha soli 50 centesimi. Ma che schifo la doccia con gli scarichi lenti. Oggi c'è Bicinet Energy Stura Scarichi, l'auto sgorgante. Energie in polvere che diventa schiuma. Libera tutti gli scarichi lenti e salva i tubi. Bicinet Energy Stura Scarichi, l'auto sgorgante. Perché bevi i brio-glute? Perché è un periodo sfortunato. E allora? Non ci ho comprato il sabottino. Fresca? Sì. L'hai bevuto? Sì. Cambiato qualcosa? Eh, un po'. Perché? Ma il gusto è bole. Equilibriata per il tantezzo? Molto. Lo sai che è il lucchetto? Eh, lo sospettavo. Ma cosa pensi quando bevi? Ai donne nude. Brio-blu? Mi piace tu. Quando il bianco si colora di vento, mi piace. Mi piace respirare il profumo della natura. Nella nuova straordinaria densità di acce denso profumata. Il suo profumo di puro, di pulito, di bianco. Mi piace. Acce denso profumata. Acce. La vita che mi piace. E adesso ho scoperto un'altra cosa che mi piace. Mmm. È il pulito profondo di acce detersivo. Carta? Carta, carta. Con Summer Card l'estate non ti costa niente. Perché con Vodafone Summer Card parli a zero centesimi per un mese. Vodafone. Life is now! Branca menta. Aceto balsamico di Modena Ponti, capsula, oro. Affinato dodici mesi in botti di rover. E i piatti più ghiotti diventeranno ingotti. Ma che vuole Wong? Che non sente passione. Cos'è i testi? Provi a darci il senso di una qualità più alta, Tognacchi. Più alta? Potrei farla in piedi. Magari sulla poltrona. Sì. Ma è geniale, facciamola. Scherzavola? Come si dice scherzavo in giapponese? Perché tarda io? Perché tarda io? Mamma! Ciao! Oggi ho cucinato. Che cosa? Una torta. Ma dai! Con il fango. Lei si diverte a giocare con i compagni e non sta mai ferma. E so che le difese naturali dei bambini possono aver bisogno, beh, di un aiuto. Per questo al mattino le do Actimel. Actimel con L. case Immunitas agendo sulla flora intestinale aiuta a rinforzare le difese naturali. Rimforzali le tue difese naturali con Actimel. È da noi. Bravo! Vacanze intelligenti! Dispersi chissà dove! Ma guarda al lato positivo delle cose. Mare, palme. Se io sapete amarti. Cocchi. Venite! Ne diamo aiuto! Ignorante, si scrive con l'H. Vero! E poi non è più facile telefonare. Da oggi con noi Wind parli gratis con tutti i telefonini Wind anche in Europa. Abbiamo a che fare con un cretino. Perché? Due. Da Wind. Quando ti mancano le vitamine puoi aiutarti con SupraVin. Il multivitaminico con minerali utile per ricaricarti di vitamine. SupraVin ti ricarica. È un medicinale leggera attentamente il foglio illustrativo. Bimba mia, non puoi lavare bianchi e colorati insieme in lavatrici. Invece sì con acchiappa colore grey. È il numero uno nella protezione del bucato. È vero, il colore dispelso è rimasto sul foglietto. E il risultato è perfetto. Come si fanno i bucati misti? Col numero uno. Acchiappa colore. È finita la separazione del bucato. E per vincere le macchie scopri il nuovo Acchiappa e Smacchia 2 in 1. Il sacchetto di Acchiappa colore che contiene il super smacchiatore grey. L'Acchiappa e Smacchia. Via le macchie protetti bianco e colori in un solo gesto. Grey. Ottimo, direi. Lì ragione. Dovesse essere l'ultima cosa che faccio. Chi è? Perché ci dà la cassa? Per vedervi un piccato. Voglio che tu stia con lei finché non ritrovi. Ha un solo desiderio. Vendicare la morte della moglie. E per questo è disposto a tutto. Gregory Peck. John Collins. Bravato. Lunedì alle 21.05 su Rete4. Grazie.